Dov'è quell'uomo? Ci ha dato un appuntamento su questa panchina! Oh, ma quello è Jack Griffo! Sta venendo da questa parte! Si sta avvicinando! Si sta sedendo qui! Oh, e adesso sta per parlare con lui! Ciao! Non sussultate! Allora eri tu al telefono, sei tu il contatto! Ma... tu sei Max Thunderman! Beh, ti conosco perché loro guardano il programma! Sì, l'attore è solo una copertura! In verità, io lavoro per la CIA! E sono qui per aiutarvi! Consegnatemi la penna USB! Non avete nulla da temere! Ma noi non abbiamo quella penna! Sentite, Harper, non so per chi lavoriate, ma la voglio subito! Noi non lavoriamo per nessuno! Abbiamo un negozio di articoli sportivi! Ah, e se ti servono dei calzettoni lunghi di spugna? Vieni da me e trovi tutto ciò che vuoi! Sì, esatto! Voglio quella penna USB! Ragazzi, magari non lavora veramente per la CIA! Vi darò ancora tre secondi! Poi finirete male! E per una come te... mi dispiacerebbe! Tre! Non continuare! Due! Aspetta! Ce l'ho io la penna USB! Sei sicuro di volerla? Sì! E sbrigati! Va bene! Penna USB in arrivo! Oh! Hai azzeccato Max Standard Man!